Non è possibile che persone che hanno pagato la casa, il 16, vanno all'asta, si vedono privati o la devono ricomprare. Ma che devono ricomprare se l'hanno già comprata? Che devono comprare se l'hanno già pagata? Basta! 64 famiglie ed oltre 400 persone di Piedimonte Matese, composte anche da anziani, bambini e disabili, insorgono dopo un'odissea durata decenni perché la loro casa, già pagata due volte, è finita all'asta per un cavillo burocratico. Si tratta delle famiglie residenti in via Casino del Duca ed in particolare parliamo della cosiddetta cooperativa Floriana, stabili, costruiti grazie a un intervento di edilizia convenzionata. La vicenda risale agli anni Ottanta, periodo in cui la prima società assegnataria non versò lenti alcune rate del mutuo che fece scattare poi il pignoramento esecutivo, al quale i soci della cooperativa Floriana, che viceversa avevano sempre pagato le loro spettanze, posero rimedio soddisfacendo le richieste della banca ottenendo da questa la rinuncia agli atti esecutivi. Qualche giorno fa l'avviso dimessa all'asta da parte del curatore parlamentare che non ha tenuto conto di tutto questo. Le famiglie naturalmente non si arrenderanno. Cosa è successo innanzitutto? In pratica ci hanno messo all'asta i 64 appartamenti realizzati con delle convenzioni di edilizia economica popolare. Dopo 40 anni di causa siamo inceppati, in questa situazione è abbastanza drammatica, dove sono coinvolte più di 64 famiglie. Un ammontare di quante persone, più o meno? Più o meno di 300-400 persone all'incirca, tra anziani, bambini, famiglie, disabili. Ci stanno mettendo veramente in strada. Adesso cosa pensate di fare? Attualmente il nostro obiettivo è di bloccare l'asta e spero che ritornano sui passi che erano dell'anno scorso che avevamo fatto un'offerta per chiudere questa situazione, l'ennesima offerta direi, per chiudere questa situazione. Il dottor Guglielmo Venditti, cosa ci fa qua a lei? Allora, con molta forza e molto piacere sto qua, perché sto difendendo mio suocero. Mio suocero è socio di questa cooperativa e questo appartamento in questa cooperativa lui lo comprò con i risparmi di una vita intera di lavoro. Ma lavoro, lavoro di tutte le mattine alle 5 di mattina per prendere il treno e andare a lavorare e questi sono i suoi sacrifici. Non accetto, non accetto che nessuno si sogni neanche lontanamente. un giudice, chiunque sia, che hanno scritto quelle carte, non leggendo una storia, una storia chiara, limpida, lineare, di 64 persone che hanno pagato quanto? Allora, ognuno ha pagato X, va bene? La seconda dell'appartamento, ma ognuno ha pagato una quota. Questi soldi inizialmente andavano all'IREC, va bene? IREC, che era un consorzio per la costruzione di edilizia popolare, che cosa faceva? Questi soldi li usava per coprire altre spese. Ovviamente i soci pagavano, ma quei soldi non finivano mai alla Cariplo. Poi è venuto un bel giorno che questa Cariplo, la banca che aveva fornito i fondi per la costruzione, disse, ok, prendiamo i soldi direttamente dai soci. I soci pagavano, e abbiamo tutti le ricevute della Cariplo, tutti. La Cariplo, dopo che ha preso i suoi soldi, ha dichiarato che non aveva più niente da pretendere da questa cooperativa floriana. Però l'IREC non aveva provveduto ad assegnare le appartamenti, perché i soci erano tutti quanti assegnatari di quota, di una quota, non dell'appartamento. Quindi che è successo? Che i cosiddetti creditori chirografari, cioè persone che hanno lavorato per l'IREC, per determinate cose, l'IREC non ha soddisfatto i soldi che dovevano avere, le banche sono intervenute e hanno pignorato un bene, che era ancora dell'IREC purtroppo. Però la chicca, guarda caso, il Comune, quindi lo Stato, l'Ufficio delle Entrate, però puntualmente mandava tanto di cartella esattoriale per il pagamento dell'ICE e dell'IMU. A me risulta che l'ICE e l'IMU la pagano i proprietari. E allora mio socio che ha pagato l'ICE e l'IMU era proprietario. Se non la doveva pagare, allora qualcuno dovrà restituire a mio socio i soldi, perché non era proprietario. Allora com'è? Chi aveva la proprietà, quando c'era da pagare l'ICE e l'IMU di 64 appartamenti, non la pagava. Tanto la pagavano gli allocchi, i buoni, le persone umili, semplici, però adesso che ci sono le case all'asta, perché quei creditori chirografari hanno continuato imperterriti a chiedere soldi, adesso quelli pseudo o quelli che si considerano ancora i proprietari dove stanno? Dove sta l'amministrazione comunale che è proprietaria del terreno ancora? E potrebbe dire, signori, il terreno è mio, le case sono mie. Nessuna amministrazione l'ha fatto, nessuno. Per paura di non essere rieletti, per evitare di far cacciare soldi al comune, ma se questa cosa non si fermerà il 14, qualcuno dovrà restituire un sacco di soldi a mio suocero, perché quando prese questo appartamento è stato anche rinnovato. Tutto, completamente. E chi li paga quei soldi? Chi li paga? Questa è la questione. Quindi, secondo me, non si può assolutamente immaginare neanche lontanamente. che dei soci di una cooperativa, che adesso non esiste neanche più, ma dei soci di una cooperativa, che hanno pagato le case tre volte, adesso che fanno, fanno la quarta volta. E la domanda che mi faccio è perché un giudice non ha accettato una transazione di 600 mila euro che è stata offerta dai soci pur di chiudere questa partita? Perché? La domanda è lecita. La risposta qualcuno la dovrebbe dare. Perché un giudice dice di no a 600 mila euro? Perché? Perché gli appartamenti, secondo loro, valgono 73 mila euro ad appartamento? Così hanno valutato circa ogni appartamento? 73 per 4 sono 1 milione e 400 mila euro. E secondo loro noi paghiamo 1 milione e 400 mila euro? Allora, qualcuno adesso, e diciamo, speriamo che i media, la stampa, ci dia una mano a lottare perché sono 64 femmine. Mio sucio, voglio dire, non parlo di mio sucio, io parlo di tutti gli altri. Non è possibile che persone che hanno pagato la casa, il 16, vanno all'asta, si vedono privati o la devono ricomprare. Ma che devono ricomprare se l'hanno già comprata? Che devono comprare se l'hanno già pagata? Basta, adesso deve venire fuori. Chi ha sbagliato deve pagare, chi ha sbagliato e non vuole non vuole venire fuori potrebbe mettere mano alla tasca, paga gli appartamenti e poi finisce la partita là. Ma qualcuno deve riconoscere è stato fatto un grosso errore. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso ed Emilio Bianchi per casertasera.it grazie a tutti e grazie a tutti! Grazie.